mi rendo sempre più conto quanto sia importante il concetto anche di esternalità positiva appunto quando si punta agli investimenti non solo di ritorno economico ma di vero e proprio ritorno sociale ambientale dell'investimento e in questo mi viene da farvi una domanda che so che è un po difficile o meglio è politicamente delicata la risposta soprattutto nel vostro ruolo ma se io penso a quanto studiato io mi sono laureato in economia e finanza ho fatto un po il master in private banking sui libri studiavi Milton Friedman Milton Friedman è stato il premio Nobel che negli anni 70 ha dato questa indicazione io la semplifico ovviamente molto del come l'obiettivo di ogni azienda debba essere solo ed esclusivamente quello di aumentare il profitto per i propri azionisti lo motivava ovviamente perché dietro a questo cioè vuol dire lavorare bene e quant'altro ora il profitto per il proprio azionista oggi non l'avete nemmeno citato o meglio sarà san dire che ovviamente non la logica di investimento sono interessato a un ritorno economico e avete comunque indicato come quelle società che hanno un'attenzione anche all'aspetto sostenibile hanno comunque dei ritorni economici più importanti però oggi siamo praticamente già con un'altra mentalità anche gli investitori che stanno aumentando notevolmente la volontà di acquistare imprese ISG aziende che adottano la sostenibilità è un qualcosa di molto importante quanto pensate che prima o poi io non so se ovviamente non sarà un discorso di un anno due anni di un paio d'anni ma magari decennale si passerà da una logica di economia basata al concetto di pil io ricordo sempre che per aumentare il pil quando vedo un incidente in autostrada devo sperare sia il più grave possibile perché solo a seguito i maggiori riparazioni dei mezzi può crescere quello che è il pil italiano ovvio che questo va contro ogni nostro aspetto etico diciamo così nell'augurarci questo ma quanto pensate che prima o poi si arriverà da una società basata sul concetto di pil a una well being economy quindi un'economia basata che vada a calcolare quello che possa essere un benessere sociale un benessere della società e non solo un ritorno meramente economico monetario degli investimenti corrado lascerei prima che un'indicazione poi anche vorrei sentire anche antonio sempre sullo stesso tema grazie rispetto a quello che diceva friedman e cioè che l'unica responsabilità sociale dell'azienda di massimizzare i propri profitti credo che di acqua ne sia passata un po sotto sotto i ponti e oggi la frontiera è sicuramente quella della capacità di generare valore condiviso cioè la risposta del capitalismo più intelligente alle crisi che il suo modello di sviluppo in precedenza aveva causato su ambiente sulle comunità è quella di non di smettere di fare profitti ma di fare profitti condivisi cioè costruire profitti per l'azienda facendo un business che migliora il contesto in quelle persone vivono quindi l'ambiente quindi le relazioni sociali quindi la qualità della vita è possibile fare profitti in questo modo assolutamente sì ed è l'intelligenza del top management delle aziende delle persone che lavorano nelle aziende che saprà che deciderà chi vince la sfida del capitalismo andando avanti questa è la mia opinione come questo potrà avvenire come come già sta avvenendo il meccanismo secondo me è abbastanza semplice ci sono diciamo dei vincoli nelle questioni del profitto che stanno entrando che una volta non c'erano per esempio chi produce energia elettrica adesso deve in europa perlomeno deve avere dei certificati di emissioni questi certificati hanno un prezzo il regolatore sta pensando di rendere diciamo così il mercato delle emissioni dei certificati sempre più ristretto man mano che passa il tempo in modo da ridurre le emissioni complessive di co2 nell'atmosfera e quindi questo farà aumentare il prezzo di questi certificati quindi sarà nell'interesse delle aziende che sono in determinati business di diminuire l'intensità delle loro emissioni questo molto semplice un altro modo per esempio è tramite la corporate governance se io ho un'azienda prendiamo l'esempio di prima di upm che ha un comitato per le paga un comitato per l'audit che è in mano a consiglieri indipendenti questi potranno più facilmente settare una remunerazione del top management che sia coerente con obiettivi che riguardano tutti gli stakeholder non soltanto non soltanto i dipendenti dell'azienda non soltanto agli azionisti per cui i meccanismi tante cui l'economia sta cambiando e sta cambiando pelle sono sono tutti sotto i nostri occhi è chiaro che tutto questo avviene perché ci sono interazioni profonde la politica che prende questo tipo di decisioni che crea questi terreni questi campi di gioco è chiaramente molto influenzata dall'opinione che hanno le persone che vivono in queste comunità quindi in realtà tutti possiamo avere un ruolo nel favorire questa transizione verso l'economia diciamo del valore condiviso per dirla con porter che è un altro grande pensatore un'altra grande diciamo del 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 capitalismo consulente delle principali multinazionali mondiali che appunto le ha messe in guardia già circa dieci anni fa con un paper molto interessante appunto in cui in cui ipotizzava che questa fosse la frontiera del capitalismo la capacità di generare un profitto mentre si crea un vantaggio per per l'ambiente per la comunità perché un'azienda prospera bene in una comunità prospera assolutamente si è bello anche questo tuo appello ha comunque una responsabilizzazione delle singole persone siano essi dipendenti di un'azienda siano essi ovviamente imprenditori amministratori delegati dell'azienda ma siano essi semplici consumatori ovviamente ognuno di noi è un consumatore e sulle attività di ognuno di noi può migliorare ovviamente quello che possa essere il modello di business e il concetto di well being economy io già durante la tua domanda mi sono la tua risposta la tua osservazione mi sono permesso di fare questa domanda che ci seguiva e ho visto effettivamente qualche applauso verde so che non è una cosa che si potrà compiere dall'oggi al domani ma ovviamente vi ripropongo questa domanda credi sia utile arrivare a una well being economy e non più ad un'economia solamente basata sul concetto di pil no pollice blu si applauso verde antonio chiederei anche te quale quale considerazioni ti viene da fare qualche quale pensiero hai a livello personale o anche chiamando in causa a mundi nell'ambito davvero di quello che possa essere questo concetto nuovo di intendere l'economia che va di pari passo col tema della sostenibilità e visto che abbiamo citato diversi nomi importanti io ne citerei un altro e già 50 anni fa metteva un po in crisi il concetto di pil stiamo parlando di robert kennedy in una famosissimo suo discorso all'università di kansas nel marzo del 1968 e lui diceva attenzione qui il pil misura tutto nel pil abbiamo anche i numeri di produttori distributori di tabacco di alcol di armi però poi il pil non tiene conto di quella che l'intelligenza di noi uomini della nostra saggezza dei nostri valori della nostra conoscenza e lui concluderà dicendo mi ricordo un po questa frase dice misura tutto ma eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta e questa frase insomma mi è rimasta un po impressa del del suo del suo discorso di ben ben 50 anni fa e direi che proprio nel periodo di covid di lockdown abbiamo riscoperto proprio questi aspetti abbiamo passato e trascorso molto più tempo con la nostra famiglia con i nostri con i nostri figli abbiamo capito l'importanza delle relazioni sociali relazioni appunto con i nostri amici parenti ma anche con i nostri con i nostri colleghi abbiamo visto anche la natura riappropriarsi dei propri spazi e questo per dire che cosa che proprio durante il periodo di covid penso che tutti quanti noi abbiamo fatto qualche riflessione abbiamo avuto il tempo di riflettere su su questi aspetti che già ci riguardavano prima già prima insomma in pilla ci siamo resi conto che non misura tutto come diceva robert kennedy e però appunto proprio il covid ha dato una spinta importante sta dando una spinta importante verso un mondo diverso verso un mondo più attento a tutti quegli aspetti che abbiamo citato nel corso appunto di questa trasmissione di questo di questo colloquio che abbiamo fatto in questa tavola rotonda